Io l'ho definita quella di oggi una giornata storica, di portata storica per la nostra regione, per la nostra isola, un'opportunità di sviluppo per questo comprensorio madonita. Questa è una grande operazione scientifica, la più grande nelle Madonie, ed è un'operazione che il Parco ha sostenuto, addirittura concedendo dei terreni sulla Mufara, che è un punto di osservazione particolare per l'astronomia a livello mondiale. Noi speriamo che da questa grande iniziativa possano nascere tante attività di rilancio del comprensorio madonita. Questa attività del Parco Astronomico di Snello ci proietta in un livello internazionale che certamente non potrà che portare benefici, anche turistico e anche della gente che sta abbracciando con grande entusiasmo questa grande operazione. Oltre a essere un importante contributo alla scienza, questo centro che abbiamo voluto finanziare e sostenere, può diventare anche un luogo di attrazione per turisti, anche per i ragazzi e le ragazze delle scuole, riuscire a costruire qui dei percorsi didattici. Penso che la Sicilia ogni tanto davvero dà modo di dimostrare al mondo che è anche capace, da un punto di vista anche burocratico, amministrativo, e quindi fare un omaggio a un sindaco delle Madonie di Snello, di questo borgo piccolissimo, essere riusciti negli anni a credere in un'utopia che è diventato una realtà. Un piccolo centro come Snello diventi oggi il centro dell'astronomia a livello europeo e mondiale. Tra l'altro poco fa le parole confortanti del presidente dell'ASI, che parlava dell'installazione addirittura breve di un telescopio proprio qui sul Monte Mufara, va dato atto al sindaco della sua caparbietà, della sua ostinazione, che chiaramente, fortunatamente, cosa non semplice dalle nostre parti, soprattutto in Sicilia, io oggi mi sento orgoglioso di essere siciliano. Io spero che da Snello si smetta di guardare le stelle in un certo modo e si cominci a pensare alle cose concrete che questa terra può fare.